ecco buongiorno sono Enrico e voglio fare un retratto di Soutine si chiama il Paisant Boy le Paisant che ha pitturato nel 1919 1920 voglio solamente la testa aspetta un po' qua mi sono venuto vicino che è davvero meglio la testa di Soutine si chiama il Paisant Boy le Paisant che si chiama il Paisant cerco di fare il suo segno che ha fatto quei colori con solamente con il carboncino pressato quello che è interessante sono le orecchie che sono un po' alte a presto 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 oi a presto a presto a presto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.